OM numero 4 dello schienamento e va in partenza la quarta corsa di Palermo. Quarta corsa di Palermo, indigene di 4 anni sulla breve distanza in 8 al via, favorito al gioco il numero 4 Robin Hood OM. I cavalli dopo l'allineamento si lanciano sulla retta di fronte, è il momento dello stacco. Ottima la partenza della specialista Rita Disgray al cui esterno si profila Roger RL che ha provato la partenza e a questo punto ha la probabilità di sfilare al comando. Roger RL in avanti, dunque su Rita Disgray che non corre in avanti, Ruffianuriken che conferma di aver perso lo smalto davvero primo molto brillante che aveva nel lancio, si sistema in terza posizione davanti a Rombo di Tuono, mentre si trova in terza pariglia esterna Riviera e in corsia esterna a portare avanti il treno esterno. Vediamo il numero 6 di Ryan GV. Primi 600 metri abbastanza veloci, 45 piuttosto scarsi, con Roger RL a comandare su Rita Disgray e Ryan GV. L'altra pariglia è formata da Ruffianuriken e il favorito Robin Hood OM e poi in quarta posizione ha steccato Rombo di Tuono al cui esterno Mimo Zanca ha collocato Riviera. Non ci sono variazioni, si va un po' di conserva in avanguardia con Roger RL e Battistrada. Il primo chilometro di Roger RL è un tutto sommato comodo 1.16.5 ma adesso Giuseppe Porso Iuno ha deciso che è il momento di forzare i tempi. con Robin Hood OM sorvola in poche battute Ryan GV e poi Roger RL affrontando al comando l'ultima curva. Un vantaggio che adesso diventa molto consistente su Roger RL che comunque sta tenendo botta. Adesso si è liberato Rombo di Tuono che prova ad arginare l'avanzata di Riviera che però è ancora molto indietro. Ruffianuriken che prova a venire avanti però sembra che Roger RL abbia ancora energie da far valere. Robin Hood OM va a concludere da nettissimo vincitore nei confronti di Roger RL e di Rombo di Tuono. Ha vinto dunque il favorito Robin Hood OM 2.27 la quota Giuseppe Porso Junior in sediolo. I colori sono quelli della scuderia a tre assi, il training è di Antonino Porzio che peraltro è l'allenatore anche dei cavalli che sono arrivati alle piazze. Ovvero il 7 Roger RL e l'1 Rombo di Tuono. Quindi una tris tutta di casa Porzio. Sul mio cronometro ho due minuti scarsi per Robin Hood OM quindi qualche decimo sotto l'1.15 per il favorito.